Caldo, sole, temperature elevate per un'estate record. Tra le conseguenze del gran caldo c'è anche l'inizio anticipato della vendemmia 2017. Quella appena iniziata per effetto del caldo e della siccità si classifica infatti come la più precoce dell'ultimo decennio con un anticipo di circa 20 giorni rispetto allo scorso anno. Pensate che la raccolta delle uve bianche è pressoché terminata e il Montepulciano in via di completa maturazione, un calendario che ha sbaragliato il record precedente risalente alla Foso 2003. Come potete vedere qua oramai siamo arrivati in dirittura d'arrivo perché siamo al 95-98% della maturazione quindi Montepulciano quasi pronto. Pensiamo che una quindicina di giorni la raccolta sarà effettuata. Molto in anticipo purtroppo ma per un'ottima qualità perché il sole quest'anno ci ha graziato tanto quindi ottima qualità ottimo prodotto ci siamo preparati anche in anticipo è stata una nostra fortuna che così sbrighiamo un mese prima tutti i lavori nella cantina. Ora aspetta a noi il buon Dio ci ha dato un ottimo prodotto aspetta a noi realizzare un ottimo vino. Con l'inizio della vendemmia in Italia si attiva un motore economico che genera oltre 10,5 miliardi di fatturato solo dalla vendita del vino e che dà opportunità di lavoro nella filiera a oltre un milione di persone. In piena attività dunque cantine sociali e aziende agricole. Pensate all'opera già dal 10 di agosto. Di questo passo a metà settembre la vendemmia sarà completata per una stagione memorabile dal punto di vista della qualità. Meno grappoli, miglior vino. Oggi stiamo facendo il Sauvignon Blanc, domani andremo sui pecorini e prossima settimana sui trebbiani. Montepulciano quando? Montepulciano saremo fra una ventina di giorni massimo. Vino quando sarà pronto? Vino sarà pronto per San Martino.